E saluto ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi ho deciso di raccogliere per voi un totale di 7 trucchi nascosti in iOS 13 validi quindi per tutti i dispositivi che supportano iOS 13 Per esempio ve li farò vedere su un iPhone 11 Pro ma ovviamente va bene qualsiasi altro dispositivo in vostro possesso Alcuni sono trucchi che conoscevo già, probabilmente alcuni li conoscerete anche voi Altri sono veramente particolari che ho dovuto scovare su internet in qualche sottosezione di Reddit E sono convinto che comunque sono trucchi che possono tornarvi utili magari non quotidianamente ma alcuni potrebbero anche salvarvi Quindi non perdiamo tempo e vediamo subito questi life hacks per iOS 13 e per il vostro iPhone Il primo trucco riguarda proprio la fotocamera del vostro iPhone ed è come registrare un video facendo sembrare lo schermo completamente spento Come potete vedere infatti per il momento lo schermo del mio iPhone è completamente nero Anzi sembrerebbe addirittura spento proprio senza vita Eppure all'occorrenza è quello qui che stava registrando un video Questo è un trucco veramente molto utile per poter magari registrare dei video in delle situazioni poco convenzionali Dove non si può rischiare di essere beccati Tremendamente semplice Basterà andare nelle impostazioni Accessibilità E tutto in fondo troverete la voce Abbreviazioni Apritela E sostanzialmente qui vi chiede quale applicazione dell'accessibilità attivare Dopo che premete per tre volte di fila il tasto laterale Nei dispositivi un po' più vecchi con il tasto home sarà invece premere tre volte il tasto home In quelli con la notch sarà premere tre volte il tasto laterale in questo modo L'importante da questo menu è selezionare VoiceOver Poi non importa se avrete selezionato anche qualcos'altro ma dovrete avere VoiceOver Ora saremo pronti e avremo configurato questo trucco Ogni volta prima di attivarlo mi raccomando una cosa fondamentale Riducete il vostro volume al minimo perché altrimenti quando attivate VoiceOver si sente E perdete tra virgolette l'effetto sorpresa Prima di attivare VoiceOver non dovrete fare altro che aprire l'applicazione fotocamera E spostarvi nella sezione video E a questo punto potrete attivare VoiceOver Lo potrete fare in due modi O con il metodo che vi ho appena detto Quindi premete tre volte il tasto power e da questo menu andate a selezionare VoiceOver Oppure un altro metodo è quello di invocare Siri E chiederle attiva VoiceOver Perfetto ho attivato il VoiceOver Però ovviamente come potete vedere potrebbe fare casino Quindi a voi la scelta Io vi ho dato un metodo silenzioso per farlo A questo punto VoiceOver sarà attivo Quindi attenzione perché l'iPhone ora da controllare Sarà un pochino difficile Perché dovrete premere una volta sul tasto di registrazione Come vedete lo evidenzierete E poi due volte per far partire la registrazione Ora noi staremo registrando Ma lo schermo sarà ancora attivo Per farlo spegnere basterà premere per tre volte Con tre dita in questo modo Sullo schermo Come sto facendo io Ed ecco che boom Lo schermo diventerà completamente nero Ma in realtà noi staremo continuando a registrare Quando vorremmo smettere di registrare O comunque ritornare ad un iPhone funzionante Basterà ripremere altre tre volte sullo schermo Con le tre dita Esattamente come abbiamo fatto prima E voilà Potremo stoppare il nostro video Sempre prima toccando il tasto di stop E poi toccandolo due volte Perché funziona in questo modo VoiceOver E anzi a questo punto io vi consiglio di disattivare VoiceOver O chiedendolo a Siri Oppure premendo tre volte il tasto power E deselezionando VoiceOver Quindi toccandolo una volta E poi due volte su di esso Ecco che andando nel rullino foto Avremo il nostro video Con tanto di audio Registrato in modo assolutamente impercettibile Ok quest'altro trucco è sempre dell'accessibilità E questa volta vi permette di far credere Che il vostro iPhone sia spento in qualsiasi circostanza Vi faccio una dimostrazione Questo è il livello di luminosità minimo Che voglio dire Già vedete poco e niente E questo invece è il livello di luminosità oltre il minimo Non si vede assolutamente niente Per fare una cosa del genere Ancora una volta bisogna giocare con le impostazioni di accessibilità Esattamente come abbiamo fatto prima infatti Basta andare in impostazioni Accessibilità E scorrere ancora verso il basso Sulla sezione abbreviazioni Basterà attivare punto di bianco Io vi consiglio di averlo come unica opzione attiva in questo caso Molto banalmente Perché in questo modo potrete attivarla Direttamente premendo tre volte il tasto power O il tasto home In caso aveste un iPhone più vecchio Perché se invece avrete attivato altre cose Premendo tre volte quel tasto Ovviamente vi chiederà tramite un menu a tendina Quali delle cose attivare E vi perderete un passaggio Invece così è molto più immediato Quindi io seleziono solamente punto di bianco E sostanzialmente quello che fa è diminuire di colpo la vostra luminosità Quindi per esempio io adesso ce l'ho alta E se apriamo tre volte il tasto power mi si abbassa Però se io la metto al minimo Come potete vedere andiamo ben oltre indietro al minimo E quindi per esempio io vi consiglio Se siete in delle situazioni dove qualcuno potrebbe sbirciarvi Tenetela già molto bassa Però senza il punto di bianco attivato Quindi normale comunque All'occorrenza se magari passa qualcuno che vi sbircia Premete velocemente tre volte il tasto power Ed ecco che attiverete l'effetto E l'iPhone diventerà completamente nero Io non lo so dove potreste usare questa cosa eh Mi viene in mente una parola che comincia per S E finisce con quola E mi viene in mente un'azione che comincia per C E finisce con opiare Però io non vi ho detto niente eh Ok ora un trucco fantastico per gli utilizzatori di Apple Music Io lo so che in Italia Apple Music non è molto utilizzato Che si utilizza di più Spotify E lo posso capire Però io che invece utilizzo Apple Music Da quando ho scoperto questo trucco Che è una cazzo È una cosa semplicissima da scoprire Ma io non ne avevo idea E permette di risalire alla cronologia di tutte le canzoni riprodotte O meno Nelle ultime 24-48 ore fai Praticamente aprendo l'applicazione Mettendo in riproduzione qualsiasi brano Indipendentemente da quale esso sia E premendo il bottone in basso a destra Per accedere alla coda di riproduzione successiva Noi qui abbiamo le canzoni che verranno riprodotte dopo la nostra Che in questo caso è l'album Ma se facciamo uno scorrimento verso il basso Quindi tiriamo giù questo menu E andiamo verso l'alto Abbiamo la lista di tutta la cronologia Di tutte le canzoni riprodotte E questo ci fa capire due cose Uno di quanto io stio sottonando per la canzone Casablanca di Welcome to Miami Seriamente è un problema L'ascolto sempre Anche se è una canzone stupida Ma mi mette troppo in mood positivo E due, cosa che magari è più utile a tutti voi Quando per esempio su Apple Music Voi state ascoltando una radio Una stazione Una playlist di un'altra persona Ascoltate quella canzone che vi piace Ma poi non vi ricordate più qual è La cercate disperatamente In questo modo potete Semplicemente risalire alla cronologia E alla peggio riascoltarvele tutte Finché non trovate quella lì Quindi trucco fantastico Che io da quando ho scoperto Utilizzo veramente quotidianamente E un altro trucco Sempre se utilizzate Apple Music È quello di poter muoversi Molto velocemente tra i secondi di una canzone Usando il testo come riferimento Infatti quando avrete una canzone in riproduzione Se premerete il bottone in basso a sinistra Per il testo Ovviamente per le canzoni che lo supportano Scorrendo il testo Potrete innanzitutto leggerlo E cantare insieme all'autore Ma ovviamente premendo su una parola La canzone andrà direttamente A quella barra A quella strofa Chiamatela come volete E anche questo trucco Da quando l'ho scoperto Lo uso tantissimo Ok, questo trucco È un po' speciale Come rimuovere l'acqua Che è entrata Nelle vostre Airpods Pro E si può fare tramite un comando Rapido Questa applicazione qui Alcuni la usano quotidianamente Altri non sanno neanche di averla Ma è già preinstallata Sui vostri iPhone E di Apple Ebbene C'è un utente Che ha creato un comando rapido Per espellere l'acqua Dalle nostre Airpods Pro Attenzione Questo trucco funziona veramente Però prima di spiegarvelo Mi raccomando Utilizzatelo solo se vi serve Non prendete le vostre Airpods E buttatele nell'acqua Apposta per provare questo trucco Perché comunque Anche se tecnicamente Dovrebbero resistere agli schizzi Oppure al brevissimo contatto con l'acqua Non voglio la responsabilità Delle vostre Airpods Pro Sulla coscienza Quindi fate i bravi E utilizzate questo trucco Solo qualora accidentalmente Vi dovessero cadere in acqua Non fatelo di proposito Detto questo Non è firmato Quindi per utilizzarlo Dovremo prima andare in impostazioni Successivamente trovare la voce comandi E attivare la voce comandi non attendibili Vi si presenterà un avviso La prima volta Voi premete su consenti E successivamente inserite Il codice del vostro iPhone Se invece non ve lo fa attivare Comandi non attendibili È in grigio Significa che dovrete eseguire Almeno per una volta un comando Quindi aprite l'applicazione Fate partire un comando a caso Poi ritornate nelle impostazioni E ve lo farà attivare Ora che abbiamo attivato I comandi non certificati Dovremo scaricare il comando Per espallere l'acqua Dalle nostre Airpods Vi lascerò anche il link In descrizione Comunque si scarica da questo sito E per installarlo Basterà premere su Get shortcut In questo modo In automatico si scaricherà Lo potremo visualizzare rapidamente Nell'applicazione comandi Quindi vedremo un attimino Cosa va ad eseguire Quindi premiamo su Aggiungi comando rapido Non attendibile E a questo punto dovremo Prendere le nostre Airpods Pro Ovviamente tirarle fuori Dalla custodia Perché altrimenti Non funzionerà Collegarci chiaramente ad S In modo che la riproduzione Avvenga tramite S E poi tenendo le dita Sulle due capsule nere In questo modo Proprio penseranno Di essere a contatto Con le nostre orecchie Tramite il centro di controllo Tenendo premuto Sulla barra volume Dovremmo impostare la modalità Ambiente Perché è meglio Per l'espulsione dell'acqua A questo punto Potremo far partire Il nostro Water Eject E poi premendo su Begin Water Ejection Voi potrete proprio sentire Una vibrazione Determinate frequenze Che se Qualora ci dovesse essere Dell'acqua All'interno delle vostre Airpods Pro La farà uscire Ricordatevi di questo trucco Perché vi può Salvare la vita Per chiudere il video Due trucchi molto leggeri Ma molto comodi Nel quotidiano Il primo per riorganizzare Le applicazioni Con iOS 13 Apple ha fatto un casino Ed è difficilissimo Entrare in editing mode O meglio non è difficile Però è impacciato Ma molti non sanno Che ci sono due modi Il primo è quello Di tenere premuto Su un'icona E successivamente Premere su Modifica la schermata home Che però richiede Due passaggi Quindi è sbatti da fare Invece Un metodo molto più comodo Che in realtà È quello che c'è sempre stato È quello di tenere Il dito premuto Su un'icona Però molti non sanno Il modo corretto Per farlo Perché molti che cosa fanno Tengono premuto In attesa che le icone Si mettano a ballare Ma passano tipo Cinque secondi È tantissimo In realtà basta Tenere premuto Finché non sentite Laptic feedback Una leggera vibrazione Appena la sentite Potete già iniziare A muovere l'icona in giro E funzionerà Anche se la grafica Non ve lo lascia pensare Guardate vi faccio vedere Ecco Io ho iniziato a spostare L'icona anche prima Che tutte le altre Avessero iniziato a ballare Ma ha funzionato comunque Sembra un trucco inutile Ma quando dovete Riorganizzare il vostro iphone E spostare tutte le icone Questo trucco vi salva Minuti della vostra vita E lo stesso principio vale Con le foto Infatti Quando voi aprite L'applicazione foto Ovviamente non funziona Per il rullino fotografico Quindi per tutte quelle scattate Perché quelle devono essere In ordine cronologico Però Se aprite un album Che voi vi siete creati Come per esempio questo qui E volete riorganizzare L'ordine delle foto Basterà premerne una Tenere premuto su di essa E spostarla In questo modo potete Sceglierne assolutamente La disposizione Senza rispettare L'ordine cronologico È un trucco che io non uso Spesso però Non lo so è strano Quando l'ho scoperto La mia testa ha fatto Quindi ragazzi Questi erano Sette trucchi utili Per il vostro Iphone Suo iOS 13 Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se ne conoscete altri O molto banalmente Se ne volete scoprire altri Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su E con un commento qua sotto Così porterò altre puntate Di questa serie Perché ho visto Che potrebbe piacervi Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link Ve li lascio qua sotto Giù in descrizione Oltre al link del comando Per le Airpods Pro Cliccando qui e là Ti potete raggiungere Altri miei due video E invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti i miei social network